Grazie anche per aver organizzato questo incontro che considero molto importante perché affrontare questi temi è sempre un contributo dal mio punto di vista che si dà non solo al diritto del lavoro ma che si dà proprio alla legalità del nostro paese. E affrontarlo con un'associazione di imprenditori e un'associazione di giovani ragazzi e ragazze mi pare il modo migliore per contribuire a questo sforzo. Parto brevemente da fare una considerazione diciamo una riflessione su che cos'è il caporalato perché diceva bene Eleonora nel suo saluto. Non è un fenomeno arcaico. Il caporalato è un sistema criminale che mano a mano si è adeguato proprio anche alla modernità del sistema produttivo. Il caporalato è un sistema criminale perché sottomette i lavoratori e non parliamo solo di non regolarizzazione che già è una cosa gravissima ma parliamo spesso di doppie buste paga. Parliamo di un salario che arriva sia e no a un terzo di quello che è previsto contrattualmente ma parliamo anche della negazione dei diritti umani delle persone. Parliamo di sfruttamento anche dal punto di vista sessuale delle donne. Non sono poche le indagini che sono state fatte meritoriamente dalla magistratura laddove è venuto fuori che spesso le lavoratrici oltre ad essere sfruttate sul lavoro erano costrette a subire altri ricatti da parte dei caporali. Il caporalato è un sistema criminale perché dopo che ha sottomesso i lavoratori e le lavoratrici ricatta le aziende. Non sono poche le aziende che vedono le loro attività produttive che sia un tendone di uva da tavola o un campo di frumento che viene distrutto nel momento in cui un'impresa si ribella ai servizi che il caporale mette a disposizione. E sono servizi importanti perché fornire la mano d'opera è una cosa fondamentale per le aziende e spesso il caporale arriva a dover imporre all'azienda e ai lavoratori anche l'acquisto del panino per far fronte alla loro giornata di faticoso lavoro. Quindi sulla base di questa considerazione noi dobbiamo impostare l'importanza di una politica di contrasto alla presenza del caporalato. Noi abbiamo fatto il nostro paese, io sono stata la promotrice nel 2010 di un'indagine conoscitiva sul fenomeno distorsivo nel mercato del lavoro, un'indagine che poi si è conclusa nella commissione lavoro della Camera con un documento approvato all'unanimità e richiamo quella indagine perché è importante dal punto di vista di quello che è venuto fuori. Lì è stato evidenziato che il caporalato non è una pratica solo del mezzogiorno e di economie arretrate, il caporalato esiste al sud come esiste al nord, anzi il caporalato si è spostato al nord perché il caporalato, così come tutti i sistemi criminali, inseguono la ricchezza. E quindi diciamo è venuto fuori questo, è venuto fuori che il caporalato non esiste solo in agricoltura perché questo diciamo è un po' un modo per relegare questo fenomeno a quello che viene da molti ancora considerato un settore marginale, assolutamente falso che l'agricoltura sia un settore marginale della recratezza, ma per molti ha funzionato questa narrazione. Il caporalato esiste in edilizia, esiste nella logistica, esiste nella ristorazione. Il caporalato non è un fenomeno che riguarda solo i lavoratori stranieri perché anche questo negli ultimi decenni si è pensato di poter relegare questo grave problema a qualcosa che riguardava gli ultimi, quelli che venivano da un'altra parte del mondo, che non avevano diritto ad essere rispettati come lavoratori e quindi diciamo era meno grave la presenza del caporalato. È venuto fuori da quell'indagine che il caporalato riguarda i lavoratori che vengono da un'altra parte del mondo riguarda i lavoratori italiani ed è stato evidenziato nel 2015 purtroppo con un fatto molto grave laddove Paola Clemente, una lavoratrice italiana, è morta in un vigneto perché i caporali non avevano il tempo per fermarsi un attimo e accompagnare o fare accompagnare quella lavoratrice a un pronto soccorso perché quella persona stava male, aveva detto alle sue colleghe di lavoro che stava male già quando stava nel viaggio che la portava dal suo comune del Tarantino in un comune della provincia di Bari ma nessuno si era fermato per dargli soccorso. Ecco allora da qui nasce una legge che io considero una pietra miliare della nostra attività contro il caporalato che è la legge che veniva richiamata prima che è stata entrata in vigore il 4 novembre del 2016. La legge contro il caporalato perché è uno strumento importante? La legge più importante che noi abbiamo è quella più innovativa che abbiamo in Europa. Viene individuata dagli altri paesi come una buona pratica perché è una legge che interviene per reprimere sicuramente, infatti sono stati incrementate le pene, è stato inserito nel nostro paese nel codice penale il reato di grave sfruttamento quindi della riduzione in schiavitù delle persone e laddove si prevede l'arresto nel momento in cui viene individuato che non si stanno rispettando le regole che nel nostro paese sono sancite da leggi e contratti. Ma è una legge che al contempo dà strumenti ai lavoratori, alle lavoratrici di fare la denuncia perché se tu denunci un'impresa o denunci un caporale perché stai lavorando in nero, perché lavori 12 ore al giorno e ti danno 20 euro, perché quando finisci il lavoro viene rinchiuso in un casolare senza luce, gas e acqua e nel momento in cui fai questa denuncia l'azienda magari viene arrestato chi compie questi atti gravissimi, però l'azienda chiude e tu non puoi più andare a lavorare e i prodotti marciscono. A quel punto purtroppo le persone che sono costrette a dover portare a casa comunque un pezzo di reddito non fanno la denuncia ed è per questo che nella legge contro il caporalava è stata prevista il controllo giudiziario dell'azienda in modo che viene arrestato il responsabile però l'azienda continua ad andare avanti con le sue attività e i lavoratori e le lavoratrici vengono regolarizzati nei loro contratti di lavoro. È importante quella legge perché prevede anche il rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità perché questa battaglia si deve fare con il coinvolgimento anche del sistema produttivo delle imprese perché noi dobbiamo puntare sempre di più a liberare le imprese dalla presenza del caporale e a delimitare quelle imprese che decidono di competere fuori dalle regole perché quelle imprese vanno punite e vanno punite pesantemente. Altre imprese che ricorrono al caporale perché non individuano un'alternativa vanno aiutate a stare dentro la legalità per questo il tavolo del caporalato che è un tavolo tripartito dove ci sono le imprese le organizzazioni sindacali e le funzioni pubbliche che è composto diciamo con la presenza anche del Ministero dell'Agricoltura del Ministero del Lavoro, del Ministero degli Interni e del Ministero della Giustizia proprio perché lì dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare tutti quegli strumenti che devono essere funzionali a debellare questa pratica che è una pratica inaccettabile e il lavoro che si sta facendo in questi mesi che si è fatto diciamo nel periodo tra l'approvazione della legge e oggi è un lavoro diciamo dove si punta al piano per l'accoglienza dei lavoratori stagionali e qui mettiamo diciamo un punto fermo perché quelli che dicono che gli immigrati in Italia vengono a togliere lavoro ai cittadini italiani non si rendono conto che noi in Italia a parte il fatto che abbiamo lavoratori che sono integrati lavoratori immigrati che sono integrati ma noi ogni anno abbiamo bisogno di qualcosa come centocinquantamila lavoratori che vengono da altri paesi che vengono spesso dai paesi dell'est per far fronte al periodo della raccolta queste persone devono venire in Italia ma devono lavorare in una condizione di legalità e di rispetto della dignità della dignità umana quindi un piano di accoglienza perché c'è anche un problema che si chiama alloggi perché molti lavoratori immigrati vivono nei ghetti in una condizione inqualificabile e il covid ha incrementato purtroppo questa situazione quando ha rinchiuso ancora di più nei ghetti le persone e da qui nasce anche la nostra proposta di mettere in campo la norma sulla regolarizzazione che è vero che non è stata diciamo eh utilizzata da tutti i cittadini immigrati presenti nel nostro paese un po' perché abbiamo fatto una norma che era più restrittiva rispetto a quella che effettivamente serviva perché era solo per il lavoro domestico e per l'agricoltura un po' perché è stato complicato anche far conoscere questo strumento quando le persone sono rinchiusi nei ghetti però nell'insieme noi oggi sappiamo che duecentosettemila lavoratori e lavoratrici gran parte eh lavoro domestico più dodicimila novecentottantasei che sono quelli che sono usciti dai ghetti e sono andati a eh chiedere un permesso temporaneo perché non avevano nessun datore di lavoro che li accompagnava per chiedere un permesso di soggiorno per lavoro queste persone oggi sono diventate visibili e stanno mano a mano avendo il permesso il permesso di soggiorno e tutto questo per togliere acqua al sistema del caporalato insieme a questo e vi chiedo scusa perché sono stata già troppo lunga ma altre due questioni voglio richiamare perché noi dobbiamo io lo dico eh in modo eh molto approssimativo noi dobbiamo evitare che si crei una guerra per errore ci sono aziende che vogliono stare fuori dalle regole e vanno contrastate ci sono altre aziende che vanno aiutate a stare nelle regole e per fare questo noi dobbiamo puntare ad una competizione leale che cosa voglio dire con questo? Che noi dobbiamo portare avanti quella battaglia che in Parlamento si sta già facendo per approvare la direttiva europea contro le pratiche sleali che significa che non si possono fare aste a doppio ribasso non si può mettere all'asta un eh prodotto diciamo come il pomodoro piuttosto che una frutta o un altro prodotto agroalimentare e eh fare una seconda gara per abbassare ulteriormente il prezzo perché questa è una pratica sleale che alla fine porta il produttore agricolo o a lasciare i campi abbandonati o a rischiare di a costringerlo a fare ricorso alla illegalità questa diciamo è una battaglia che noi dobbiamo portare avanti e vincere perché tra l'altro aiuta a contrastare il caporalato l'altra questione è quella delle vendite sotto costo su questo noi abbiamo chiamato eh la grande distribuzione stiamo facendo un lavoro anche nel tavolo di contrasto al caporalato perché bisogna sapere che nel momento in cui un prodotto viene messo ripetutamente in vendita sotto un costo che è inferiore al a un prezzo che è inferiore al costo di produzione c'è qualcuno che quel risparmio che ha il consumatore lo sta pagando sono eh i lavoratori sono le lavoratrici sono le imprese agricole che sono l'anello più debole nella filiera agroalimentare allora questa vendita sotto costo grazie al lavoro che stiamo facendo in Parlamento deve essere inibita perché eh noi dobbiamo eh appunto puntare a produrre cibo cibo di qualità e a un prezzo economicamente sostenibile anche per le piccole piccolissime e per le medie imprese e su questo concludo nella battaglia per la legalità e di contrasto al caporalato abbiamo bisogno di fare una grande alleanza con un soggetto fondamentale che è il consumatore perché il consumatore deve sapere che nel momento in cui acquista a un prezzo inferiore al costo di produzione si fa di fatto corresponsabile di quelle azioni criminali che abbiamo richiamato prima della riduzione in schiavitù dei lavoratori della competizione sleale tra le imprese questa è eh quella che io chiamo una battaglia per diffondere la cultura della legalità e per questo vi ringrazio ancora una volta per aver organizzato queste iniziative e personalmente sono mi dispiace che devo eh assentarmi seguiranno i miei collaboratori ma sapete che oggi è una giornata complicata dove stiamo lavorando per il decreto ristoro per le imprese che purtroppo vengono colpite dalle azioni che abbiamo messo in campo per contrastare questo gravissimo fenomeno del covid ma sono assolutamente disponibili a continuare il confronto in tutti i momenti in cui si pensa di affrontare questo tema di contrasto al caporalato e di battaglia per la legalità perché nel nostro paese dobbiamo continuare a dire che a prescindere dal colore della pelle il diritto e la dignità degli uomini e delle donne devono essere garantiti con la collaborazione di tutti perché non basta una legge la legge contro il caporalato è importantissima non la dobbiamo difendere in tutti i modi ma non basta una legge c'è bisogno di una diffusione della cultura della legalità e su questo dobbiamo chiamare tutti a collaborare vi ringrazio e vi auguro davvero una buona discussione e un buon lavoro fornò